Ciao a tutti, oggi prepareremo la crema al mascarpone senza uova. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Ingredienti sono mascarpone, panna fresca ben fredda e zucchero a velo. Andiamo il via alla ricetta. Posizioniamo la farfalla sulle lame. Mettiamo 30 grammi di zucchero a velo e la panna che vi consigliamo di posizionare in congelatore per 45 minuti prima di iniziare la ricetta. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimbi senza impostare il tempo a velocità 3,5. Fermiamo il bimbi. La panna è ben montata, mettiamola da parte in una ciotola. Abbiamo rimosso la farfalla dal boccale. È possibile utilizzare la panna vegetale al posto della panna. In quel caso vi consigliamo di non aggiungere lo zucchero a velo perché solitamente è già zuccherata. Mettiamo all'interno del boccale il mascarpone e lo zucchero a velo. Chiudiamo con il coperchio. Posizioniamo il misurino e azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 3. Trasferiamo il mascarpone nella ciotola con la panna. Amalgamiamo delicatamente. La crema è pronta, riponiamo in frigo fino al momento dell'uso. Crema al mascarpone senza uova. Ideale per preparare tiramisù, farcire torte, muffin o bignè. Si conservi in frigo per due giorni. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.